un minuto con padre pio dai luoghi del convento di san giovanni rotondo all'aperto per raccontarvi come sempre tanti piccoli aneddoti tra il giardino l'orto del convento dei frati con questo libro tra le mani con padre pio come in una fiaba tra sogno e realtà scritto da padre pio capuano fa un bel escursus storico su quello che è stato il periodo militare di padre pio tra i tanti racconti e tra i vari aspetti storici che lui affronta della vita di padre pio in modo particolare l'esperienza drammatica nella vita di padre pio del servizio militare che come ben sappiamo in tanti hanno scritto i cento giorni di padre pio da soldato ma in realtà racconta padre pio capuano precisamente ne furono 182 che ha trascorso in quattro periodi diversi e lui va ad analizzare questi periodi a noi oggi interessa soffermarci su un periodo precedente al primo ovvero l'ingresso di padre pio o addirittura potremmo dire la visita la visita quella visita drammatica che lui ha raccontato nel suo epistolario il 6 novembre del 1915 già la mattina del primo novembre dopo la messa nella chiesa a pietrelcina della madonna della libera nell'attraversare il centro di pietrelcina il giovane frate ventottenne vide affisso al muro un manifesto che erano chiamati alle armi anche le classi di terza categoria alla quale apparteneva anche lui quindi si doveva presentare a benevento il 6 di novembre una curiosità racconta lo stesso padre pio capuano che già il 26 aprile del 1907 padre pio allora era studente del secondo anno di filosofia a santelia era stato presso quel distretto per la visita militare nella quale fu esonerato per il servizio di leva proprio perché era un religioso tutti cercavano di sollevargli il morale ma scrive a padre agostino lo stesso giorno e ne spiega anche il motivo quindi siamo già al primo novembre qui a benevento tempo fa ci fu un'inchiesta riguardo ad un capitano medico del distretto il quale venne denunciato perché era troppo umano nel sentenziare sulle malattie di coloro che dovevano essere arruolati nell'esercito e a dir la schietta pare che molte porcherie si ebbero a deplorare il fatto sta però che cotesto capitano medico viene traslocato in un luogo suo e ne venne poi un altro il quale a quanto si dice scrive padre pio confermato anche da qualche fatto non si addimostra appunto affatto umano con i poveri ammalati insomma il distretto di benevento col suddetto cambiamento ha avuto una durissima reazione ricordiamo che padre pio si trovava a casa perché il signore gli permetteva questa questa strana malattia che lo faceva stare male nel convento a stava a casa ma stava un po meglio diciamo un po meglio e allora lui era agitato e anche in questo lo stesso padre più ebbe ragione perché scrive padre più capuano nel suo libro nella sua visita al distretto militare nell'allora caserma di sant'antonio vicino piazza dogana benevento questo nella lettera successiva del 18 novembre scritta da caserta viene riconosciuto tisico da questo feroce capitano medico tuttavia mentre padre più stava per aprir bocca questo gli disse per sottoporli le tutte le sue sofferenze lo troncò immediatamente gli disse va bene al reggimento ve la vedrete con i vostri novelli superiori è così il giorno 10 novembre venne subito inviato in sotto rassegna quindi ad una seconda osservazione presso l'ospedale militare principale di caserta e dopo questa visita a caserta sperava di essere esonerato e invece li fu di nuovo dichiarato e assegnato alla decima compagnia sanitaria di napoli in altesa del foglio di partenza di ritorno a pietrelcina quindi 30 novembre convocato con urgenza a benevento ma non gli consegnarono il foglio di via perciò quindi tornò di nuovo a pietrelcina finalmente riconvocato il 4 dicembre questa volta gli diedero quel foglio famoso di partenza il 6 dicembre doveva presentarsi a napoli presso la decima compagnia il giorno dopo era domenica 5 dicembre scrive a padre agostino domani mattina lunedì a dio piacendo partirò per napoli essendo stato assegnato alla decima compagnia sanitaria e cominciò così questo periodo burrascoso tremendo dove padre pio conobbe con grande crudeltà le atrocità della prima guerra mondiale